Migliorano le condizioni di Giussi Montecchia, la 39enne barista di Villarosa aggredita la mattina di venerdì scorso dal suo ex fidanzato. La donna si è svegliata dal coma farmacologico e ha parlato sia con i medici che con i suoi familiari, ma senza dire ancora niente del drammatico episodio. La donna che resta in prognosi riservata già nelle prossime ore potrebbe lasciare il reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo. Stamane Fabiano Cistola, accusato di tentato omicidio gravato e violenza privata, ha incontrato nel carcere di Castrogno il GIP Marco Procaccini per l'udienza di convalida. Il cesto lo si è avvalso per la facoltà di non rispondere, tenuto conto delle condizioni psicologiche in cui verso. Questo è il motivo, non è una scelta di natura tattica direi, ma dovuto appunto al fatto che non è in condizioni di serenità tale da poter rispondere all'interrogatorio. Ricordava molto poco dell'episodio, anche nel colloquio che ho avuto con noi precedentemente. Ricorda i fatti non in maniera puntuale, direi che nel colloquio con i difensori ha pianto continuamente, continuativamente. Quindi aspettiamo un attimo che la situazione si normalizzi, ci auguriamo che la vittima possa al più presto uscire dall'ospedale e poi chiederemo di essere interrogati direttamente dal Pubblico Ministero. Chiederete al Tribunale della Libertà un intervento per l'attenuazione della misura cautelare? Questo è probabile, dobbiamo valutare naturalmente anche gli elementi, non abbiamo attualmente nulla in mano, dalle contestazioni che sono state fatte risulta un'indagine abbastanza ampia, già svolta dalla Polizia Giudiziaria, numerosi testi, quindi è una valutazione che possiamo compiere sulla base del materiale processuale. Ha chiesto delle condizioni della ragazza? Ha chiesto delle condizioni della ragazza e almeno su questo l'abbiamo rassicurato.